oltre che di competenza. Noi abbiamo visto gli interventi straordinari fatti da autostrade e da ANAS tanto che poi c'è stata una univocizzazione degli interventi sulla viabilità, anche dei lavori. Non so se voi sapete tutto il momento di protezione civile. I comuni devono aver essi stessi allertati gli operatori economici. Io ho assistito ad una caduta verticale della capacità di avere le proprie attività mobilitate insomma. Facciamo in modo che sappiamo chi è che deve intervenire e con quale livello di allarme che si realizza. In maniera tale da allertarli come fanno per esempio le società autostradali quando prenotano la copia delle committenze che significa fargli un danno irrisolvibile. Ultima osservazione di generatori. Voi sapete che l'anno scorso noi abbiamo avuto in tre realtà crisi di fornitura che anche dal punto di vista della crisi di fornitura non veniamo colti di sorpresa. Io non credo che attorno a questo tavolo ci siano persone che scommettono sulle occasioni. Quest'anno lo dobbiamo preparare per fare in modo che se deve accadere accada con una capacità di dialoghi, di linguaggio. C'è stata una difficoltà di linguaggio. L'anno scorso pensateva il contrario di far risultare che ogni volta sembri la prima volta. Siccome le precipitazioni atmosferiche prendono di mira che cosa? Nel senso che il MIT ha l'alta sorveglianza e non solo per le nomine dei collaudatori e sotto al MIT, in linea con Enel, ci sta un'importante attività delle regioni. La situazione di Chiauci che è a cavallo, a schiena d'asino tra, qui è questa perfetta, che ha riguardato sia la neve, ma riguardato anche gli invasi idrici. E voi vi ricordate che su alcuni invasi idrici del Pescarese e dell'Alto Vastese della provincia Chitina è bene che vengono aiutati a riprecisare la forza. Però a questo punto della lontananza delle crisi, a luglio per novembre, dicembre e gennaio, siamo anche noi nella condizione di poter supportare e sostenere. Allora io vorrei che possano reimparare ciò che prevede anche il loro piano neve. La regione qui assume su di sé e svolge una funzione di...